I nostri fianchi rappresentano l'energia creativa, di nuovo siamo tornati all'energia sessuale, l'energia creativa in realtà è la stessa, l'energia sessuale, da essa è nata ogni cosa, ma anche ha a che fare con i tuoi fianchi, hanno a che fare con il tuo futuro, con il modo in cui guardi al tuo futuro, se ti stai muovendo verso il tuo futuro o se sei trattenuto, ti muovi in avanti o sei trattenuto, immagina questo equilibrio che è creato dai tuoi fianchi, l'equilibrio per stare su entrambi i piedi, ugualmente forti nel momento stesso, e muoverti in avanti per condividere come vedi il tuo futuro, voglio che ci rifletti su, il tuo futuro è amichevole, è pericoloso, il tuo futuro ti offre molte opportunità o è un disastro, ne hai paura o sei totalmente aperto adesso, potresti aver sperimentato una sofferenza o una malattia, il tuo futuro sembra incerto a causa di ciò che le persone hanno detto, forse persone del settore medico e o altre persone a causa delle loro esperienze, ma sei tu a plasmare il tuo futuro, e nel momento in cui vai più a fondo, dentro di te, ti rendi conto che hai la possibilità di cambiarlo, nella direzione che desideri, ma per farlo, dobbiamo capire il nostro potere di creazione e forza.